E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. La rincorsa di Suso, palla dentro, Donna Roma! Reina, la inchioda a terra! Il portiere all'attacco per l'assalto finale è la mossa disperata di ogni allenatore. E spesso ha funzionato. Basti pensare al derby di Milano dello scorso anno. La presenza di Samira Andanovic disordina l'assetto difensivo del Milan. Il gol di Perisic! E' 2 a 2! A un minuto dal termine! L'interna pareggia! Che presenta il conto al ritorno. Il corner dentro! Il colpo di testa! Zapata! Zapata! Dovrebbe essere gol! È gol! Il rischio però è enorme. Perché il risultato può essere l'esatto opposto di quello sperato. Chiedere informazioni a Morgan De Santis in un Napoli-Fiorentina del 2010. C'è chi è andato vicino a segnare di persona, come Francesco Toldo, comunque decisivo nell'avviare il mischione con l'ultimo tocco di palla di Cristian Vieri in Inter-Juventus del 19 ottobre 2002. E c'è chi ci è riuscito. Michelangelo Rampulla, portiere della Cremonese, pareggia al novantesimo contro l'Atalanta nel 1992. E Massimo Taibi, suo l'uno a uno della regina sull'Udinese nel 2001, è stato l'ultimo portiere a segnare sua azione in Serie A-Team, fino a domenica scorsa. Grazie a tutti.